...metri al punto di partenza, aumenta velocità la macchina, prima del lancio sbaglia Orgoglio, prima del lancio, prima del lancio sbaglia le GMB, Madec per il comando al suo interno Olivier Joyeuse, Olivier Joyeuse e Madec in lotta avanti ad Ottonec, poi all'esterno non mi prende l'IBM, Olivier Joyeuse avanti a Madec, Prunolea che si accoda in seconda posizione, all'esterno continua a migliorare non mi prendi l'IBM che ha in scia Iberi del Pri, tanto la squalifica per Orgoglio, in errore anche Ottis di Pippo a tabellone. 29-9 il quarto iniziale, Olivier Joyeuse al comando, il colombino sembra intenzionato a correre al comando, al suo esterno c'è non mi prendi l'IBM che ha in scia Iberi del Pri, 45-5 per il 600. Ingresso sulla seconda e penultima piegata con Olivier Joyeuse sempre avanti a non mi prendi l'IBM, poi Madec in fuori Iberi del Pri, all'esterno anche Maradona Car, 1-0-2-2 per completare gli 800, la media di 1-15-8, prova a migliorare Maradona Car, nella sua scia c'è Naomi UR, si arriva così al completamento del giro 17-4, con non mi prendi l'IBM che è al comando, però è scavalcata da Iberi del Pri, sta migliorando Maradona Car, Maradona Car che passa in seconda posizione, poi in terza all'esterno prova Naomi UR, dopo il secondo quarto in 32-3, la squalifica per Madec, terza frazione veloce in 29-7, passa Maradona Car, Maradona avanti a Iberi del Pri, poi in recupero Naomi UR, in evidenza Maradona Car per la seconda continua la progressione di Naomi UR, e allora al traguardo Maradona Car, Naomi UR, e poi Iberi del Pri e Malindina che fa lo sprint, ma probabilmente solo per il quarto posto, 29-7 il quarto conclusivo, 2-0-1-6 il tempo totale, media chilometro 1-16, Maradona, il gol di Marco Castaldo per i colori di Umberto Lettieri e il training di Giovanni Pulici.